Siamo con Jessica. Ciao Jessica, buon'intornata. Allora, quali sono le fantasie più comuni per una donna? Allora, allora, argomento molto interessante. Allora, se me ce ne sono diverse, ovvio che... Allora, secondo me, farlo in un posto strano, quella secondo me comunque è una cosa che comunque accomuna tutte. Poi vabbè, magari cambia il posto, però secondo me proprio farlo in un posto strano ci sta, che ne so, può essere... Boh, tipo parlo per me, a me magari può essere in un posto che magari sai che c'è gente, non ti fai sentire, non so come... Cioè, il classico, se c'è, sta che la gente può sentirti, quindi c'è il classico vedo, non vedo, che ne so, ti faccio esempio che può essere un camerino di un centro commerciale. E comunque questa cosa, parlandone con amiche e ragazze, effettivamente è una cosa che comunque accomuna un po' tante. Non sono l'unica, ecco, quindi fanno accenno anche dalla regia di sì, quindi... Esatto. E un'altra fantasia, secondo me, una cosa tre. Allora, io personalmente ho un'altra ragazza, però la cosa tre accomuna un po' tutte, anche questa cosa detta in confidenza con altre, sì. Molte mi dicono con due uomini, invece con... perché dicono che comunque con un'altra ragazza non... Si sentirebbe poi un po' la gelosia, un po' quella cosa lì, anche che secondo me, secondo me, se fosse un'amica, piuttosto che non conosci. Ovvio, se è il mio fidanzato non lo so se riuscirei, non lo so. Adesso vi dico di sì, poi in quel momento magari mi scatta la gelosa e direi, aspetta un attimo cosa stiamo facendo. Però di base ci può essere l'idea, ci può essere... Per esempio con un amico, conoscente, cosa che magari stai frequentando, non c'è nulla di sera, secondo me ci può stare, ci può stare come cosa. La farei più che volentieri, sì, quello sì. E il posto più strano in cui l'hai fatto? Ma in realtà il posto più strano... campagna. In campagna? In campagna, sì, sì, sul prato. In Sardegna, sì, sì. Ok, e esperienza a tre hai già provato o non provato? No, a tre no. A tre no. Mi è successa con una mia amica che... Vabbè, lei sta facendo le sue cose con il suo ragazzo, io col mio, ma non era comunque una cosa... Eramo nella stessa stanza, ma no, a tre no. A tre no. Ok, era una roba a quattro divisa. Sì, esatto. Ok. Però dai. Ci sta, ci sta però. Ci sono alcune ragazze, o meglio anche alcuni uomini, che magari amano, diciamo, riprendersi per poi guardarsi questi filmati successivamente. Tu cosa ne pensi? Allora, non l'ho mai fatto, sono sincera, non l'ho mai fatto. Sicuramente da provare, dico, lo proverei, non so, però sicuramente ci può stare, per me è molto eccitante come cosa. Ok. Molto, molto, sì. Sex Toys? Sì, sì, assolutamente pro. Hai qualche giocato preferito? Ma, preferito, vabbè, il dildo, cioè quello l'ho usato. Sai che c'è anche quello a doppia punta? Ah, sì, sì, no, 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 quello no, quello che ho io no, solamente con una punta sola, no. Quello classico. Quello doppio no, quello classico, sì, sì, sì. Ok. Eh, ho sentito più di qualche ragazza che ha questo oggetto come quello preferito. Sì, con doppia punta o una sola? No, quello singolo. Quello singolo. Quello classico, diciamo. Beh, secondo me anche un'altra cosa è l'essere legati. Ah, sì, sì, anche questo. Eh, sì, eh sì, con l'essere legati. Tra l'altro se vai al sexy shop c'è un sacco di cose, un sacco di cose per legarti. Esatto, esatto, esatto. Latex, non latex. Infatti, cioè, ci sono alcune ragazze che, come dire, provano eccitazione nel sesso quando si crea una situazione paragonabile allo stupro. Sì. Ok? So che può sembrare strano per qualcuno, però ragazzi, ognuno funziona a modo suo, cioè non è che potete decidere a voi per tutti, quindi abbiate rispetto, dei gusti e trui state zitti, ok? Quindi qualcuno ha una sorta di fantasia derivante da, come dire, uomo che le tiene la mano nella bocca, piuttosto che la lega, eccetera, eccetera, eccetera. O dominare. L'altra cosa è il farsi bendare. Sì, anche quello non l'ho mai provato, ma quello però in realtà non l'ho mai sentito come cosa... cioè anche confrontandomi con l'altro, no, il bendato no. Ti hanno confessato come fantasia l'essere bendato? Sì, essere bendate e... Ma entrambi o solamente la ragazza? No, solamente la ragazza e poi l'uomo arrivava, poi magari non era l'uomo suo. E quindi poi facevano quello che avevano. Eh, vabbè, lì poi... Poi proprio quando scopri, eh vabbè, è andata così, è andata così, ormai è andata, pazienza. Ormai è già finito. E poi ti dico un'altra, ma veramente rara, 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 una donna, tra l'altro ragazza molto molto giovane, che aveva come fantasia quella di andare con un trans. Ah, ok, no, questa è mia nuova. No, beh, è l'unica. Questa è mia nuova, no, 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 io no, sì, in realtà no, 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 non riusci. Ok, devo dire, ragazzi, che ormai abbiamo discusso di tante cose, evitiamo di andare oltre perché poi voi con i commenti non sapete bene come gestire la situazione, riempite il box di parole che non vanno bene, non aiutano il format, non aiutano le ragazze e quindi evitiamo di spingerci oltre. Qui è Cristian, Jessica, per oggi è tutto. Ciao! Ciao!